malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene stellantis ha comunicato la sospensione della produzione presso le carrozzerie di mirafiori per l'intero mese di maggio attribuendo questa decisione alla mancanza di ordini per vetture elettriche principalmente a causa del ritardo nel rilascio degli incentivi in diversi mercati europei specialmente in italia questo annuncio conferma le preoccupazioni preesistenti e mette in luce le tensioni tra azienda e governo italiano secondo i dati riportati al 31 dicembre 2023 solo il 6,5 per cento dei 74 miliardi complessivi del fondo di sviluppo regionale europeo cioè il cosiddetto FESR e del fondo sociale plus fondo sociale europeo plus per il periodo 2021-2027 è stato attivato con una spesa effettiva di appena lo 0,7 per cento il CEO carlos tavarez ha costantemente sollecitato il governo per ottenere incentivi volti a stimolare il mercato dell'energia elettrica ma finora gli sforzi sarebbero stati vani allo stesso tempo il governo ha richiesto un impegno continuo da parte di stellanti sulla produzione che finora non è stato mantenuto inutili sono gli sforzi nel tentativo di attrarre produttori italiani e produttori stranieri senza affrontare il problema principale evidente a chiunque insomma la mancanza di una parola fondamentale cioè nazionalizzazione rende il bluff palese queste sono le notizie riguardanti le grandi imprese ecco è per questo motivo che io il 6 di maggio alle ore 18 e 30 parlo invece delle piccole e medie imprese perché mi sono veramente stancato di parlare delle grandi imprese attorno alle quali sembra che giri tutta l'economia nazionale i giornali parlano solo di questo la politica si occupa solo di questo ma io mi chiedo ma quando la fiat nacque aveva bisogno degli incentivi statali no si chiamava libero mercato ecco allora il 6 di maggio alle 18 e 30 io faccio questo webinar perché perché voglio parlare della strategia per i piccoli e medi imprenditori anche per i micro imprenditori e si sono iscritte veramente tantissime persone tantissime persone non so se le mie capacità organizzative saranno sufficienti perché perché tanti imprenditori si sono accorti che di loro cioè i problemi della strategia non delle grandi imprese ma delle piccole imprese non parla nessuno di quelle che non stanno in piedi per gli aiuti di stato ma di quelli che stanno in piedi perché sanno fare un piano di strategia per incontrare la domanda e l'offerta del proprio prodotto del proprio servizio trovate facilmente le iscrizioni sul sito valerio malvezzi punto it tantissimi se sono iscritti venite perché io credo che in italia abbiamo perso il lume della candela parliamo soltanto più di grandi imprese ma il pil della nazione è fatto prevalentemente come anche gli occupati dalle piccole medie e micro imprese vi aspetto malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene